Avremo neanche pareggiato. L'ora la palla a volo in campo domenica la Valsa Group a Piacenza nell'ultima di regular season. Prima dei pre-off con Trento, intanto il tecnico Alberto Giuliani parla anche del proprio futuro e dice vorrei rimanere a Modena. Filippo Marelli. Il presente si chiama Piacenza, il futuro prossimo. Trento in mezzo al mercato e gli scenari della panchina giallo-blu. Alberto Giuliani, coach della Valsa Group, si muove su più fronti. Domenica c'è l'ultima di regular season. Modena gioca a Piacenza. L'occasione per capire se la squadra può giocarsela contro le big del campionato. Sono molto curioso di vedere a che punto siamo. Mi riferisco in particolare alla nostra continuità di giocare con pazienza contro questi squadroni che sono dotati di una battuta formidabile. Mercoledì poi si andrà a Trento per gara 1 dei quarti di finale play-off. L'Itas sarà senza il suo palleggiatore Sbertoli che si è infortunato alla mano destra. Possibile che Trento torni sul mercato per cercare un regista, altrimenti toccherà il vice Sbertoli, Alessandro Acquarone. Intanto facciamo gli auguri a Sbertoli di pronta guarigione. Poi il parco attaccante di Trento lo conosciamo, non credo che poi cambi così tanto se non il fatto di doversi adeguare a un nuovo palleggiatore. E queste sono intense settimane di mercato. Giuliani ha il contratto solo fino al termine della stagione, ma ha le idee chiare sul suo futuro. Stiamo parlando del futuro, non dei giocatori, stiamo parlando del mio futuro e quindi la risposta è questa, stiamo parlando. C'è la volontà, almeno lo chiedo a te, da parte tua di rimanere? Assolutamente sì, i matrimoni si fanno sempre in due, quindi ci vuole il marito ma ci vuole anche la moglie.